Dunque, continuiamo ancora la nostra serata con la Maison Ligerie. La Maison Ligerie si trova in Via Cire dei Gaffari 15, nasce nel 2004 con l'intento di soddisfare la donna con qualche curva in più, cercando di aiutarla ad esprimere la vera figura femminile con un intimo raffinato e moderno. Nella sua boutique potete trovare reggiseni, bodi e costumi da bagno in taglie differenziate, con coppa dalla A alla M e sottosegni dalla 28 alla 48, al fine di soddisfare qualsiasi esigenza della donna moderna, offrendogli colori, pizzi e fantasie. Questa sera ci proporrà una parte della collezione autunno-inverno 2015-2016 di calze moda dell'azienda Oro Blu Girardi Mura. La Maison Ligerie ci porterà in un mondo di fantasia. Maison Ligerie! La Maison Ligerie! La Maison Ligerie! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.